il coglione devo ancora estrar vabbè 2 più 4 no palle dai coglioni strunzo ancora humanful flat eh perchè te si piace meglio sei l'incrucolito dai inizia la nostra avventura pescesca come si chiama? ah si madonna la musica italiano ok ottimo frame resi 30 fps ma dio tutto al massimo mettiamo la dura prova la mia 1060 eh si hai messo l'rtx vero? si si ironfish dai un soul slike ok dai dopo si muove ah e lo prendi ah è tipo ironbred si infatti è ironfish ah vabbè dai è contento questo offre la casa beh si può liberare dei alien che dentro al pan che si muove da solo ah ah si tenlo sul tetto ma se vabbè ti si curio dai è contaminato comunque non vorrei dire non si si rara c'è mario era cocaina eroina guarda sono drogati di pan di zenzero pane pane all'eroina guardali come magna tutto si si che sbarlotti ecco perfetto le pane ora sei cannibale vai a mangiare i tuoi compagni ma sta veramente la gamba a parte beh ha ottimizzato veramente è col culo ma va a 30 fps mamma dio che schifo ti ho detto che era pesante come gioco capiamo anche la trama no che è la vabbè è importantissima comunque la trama allora io no noi siamo il pesce no stronze in via rapirla ma per mica la scena di di nemo si infatti è quella c'è letteralmente è la scena di nemo sotto lì in cruncolia ma guarda che ha di sicuro perché ha di te lo spazio sotto la statua che idiota imbecille che cretino e vabbè sei da solo adesso quanto godo guarda ma che stronzo i tuoi amici sono appena stati cucinati quanto godo non c'è che ha perché la porta è lì ma chi è che è il mona che sbatte la porta no e che chiude urlando madonna è depresso il pesce è toccante questa scena basta fai versi agisci coglione fai qualcosa fai qualcosa ok adesso va bene adesso va un po' più fai che cambia un cazzo cazzo no 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 sei disfatto muori da donna mezz'ora muori muori tu sei morto digli che schiatti cortesemente rugola rugola rugolana dai ho capito ho capito che sono un pesce non ho capito ma quindi quindi no ma ho capito il titolo del gioco dopo che l'ho avviata da 10 minuti come fa a sboccare il pesce questa è la definizione di sbarrotto si è scuotere oh no oh no oh no vai lì vai vai oh merda mi casco in testa a qualcuno adesso lo boccavammelo dopo togliermi la voglia mi casco in testa a qualcuno ok va mamma che culo tecerizzai in belundrio cascar si si hai ragione ah il pane drogato fatto con le ruine drogato spolpo ma va avanti mamma dio ok qua c'è il tendone però qua bisogna sbrigarsi che se noi ti mette sotto st'attento st'attento ok ah c'è proprio che ce l'hai fatta bravissimo ah ah hai vinto il nulla più assoluto si se lo porta a casa cazzai che fa sta roba qua pesce lo portiamo a casa eh ovviamente non stiamo qua a trovare il pane in ogni livello ma c'è che anche no sinceramente ma c'era una cazzi ma l'ho saltato non lo so ma l'ho notato vabbè appart'è che non capirai che trama ci siamo persi se una cosa è successa il bambino ha portato nella soffitta un pece basta madre il boccia si vabbè ma dai no ma prima è bello che cascato se lo sbacchi tu i miei baloni ti sbacchi in modo da se lo sbacchi tu i miei baloni ti sbacchi prendilo oggi che fadiga no veramente che fadiga una fatica inconcepibile nel peso dell'orata nel peso che andava a lavorare no frena 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 no no c'è c'è un bordo c'è un bordo c'è un bordo c'è un bordo te l'hai detto te l'hai matta che piacere parso cazzo ecco perfetto esattamente stavo parlando di questo adesso vai gira gira sta attento pian pian non andar lì eh che hai da andar lì c'è troppo rino ricca di e non si oh meno male la faccia del pesce posso sguire a star qua è solo un tir in bambio dopo due chili di pane con l'anfetamina vorremmo vedere si è la siringa aspetta che prendo la siringa appunto vai vai siamo punti no mi sono punto veramente mi sono punto veramente con la siringa no se sei addosso adesso la siringa se sei addosso ah e sei morto credo è successo perché è tutto buio c'hai morto hai sicuramente droga quella no mi sono veramente droga mi sono sparato mi sono sparato in vena alle ruine c'è addosso c'è non me l'aspettavo peggy 18 sto pesce sto zupo qua eh infatti eh da cazzo ci va non puoi entrare lì dentro? eh mamma dio che roba è 40 siringa ma vai in culo se ne fai niente forse ti entra lì dentro c'è va bene qua no aspetta qua c'è già andato ma dio già ci si blocca su un gioco così si zain via di sfar le barche va de la va de la madonna no mi sa che lì è più il più basso quindi mi sa che da lì puoi passare ma dio mamma devo guardare un walkthrough di lionfish a dio credo musica vado la parola daylight aspetta no giuro i vibe del main team di daylight è vero 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 madre ma Dude spero che ma facciam che mi faccia incassare così scrivo il triofentenza rischia la blush felice Mah mamma mi sta lascio lì Mauza prima Una bella rincorsa, mi vedo cosa che posso consigliarti Dai, va cadì, va Ecco, te l'ho detto E adesso da lì mi sa che vuoi passare Sì, siamo un po' furbi Ci sono stati mezz'ora, acho che la porta è di stupidissima E sì, sa che tornino una foto da lì, eccolo, sapevo E adesso? Eh, esiste Ah, devi andare su qualcosa Eh, sì, vabbè, buona fortuna Ah, ok, va bene Dai, dai Dai Please, don't make me run Stai seriamente cercando di parlare con un pesce? C'è appunto Sto provando a ragionare Ven qua, ven qua No, no, no No, è il mio ame, corri, corri In there Questo è un pesce, tu non hai visto un pesce in vita tua Beh, che capolavoro, barba via Un gioco mobile, va credito, almeno È vero È un po' più grande Madon Vacca, troppo Il sole divino Ah, eccolo qua Siamo da qua Ah, c'è proprio C'è proprio Così Ovviamente nessuno sa cosa di niente C'è che è partito un getto d'acqua Che boh La cassa No, sempre la La palla Sei contento, Nico? Sì, nasce Io non vorrei dire, ma ho visto ormai da un gatto Eh, oh cazzo Ma c'è due pesci? Io sono accorto adesso Sì, ci sono due Non so Ti dici, già rompe il cazzo sta parte qua, no? Sì Vedrai dopo Aspetta che mi faccio mettere sotto No Manco si ferma Poi lo tira dritto Hai ragione Sulle scale, vai Ma va Mamma, mamma Mamma Dio Mamma Questo gioco mette due Ok, boh È morto È rimasto lì Ah, ok In mezzo a tutti In mezzo a tutti proprio Ah, ovviamente, guarda Se si muove Si muove così Lo disinstallo Te lo dico Si muove in diagonale Cazzo che and'è? Là in fondo Mamma, mamma Sta merda Sta merda si muove in diagonale Come cazzo fai? Ah, salve Salve, buonasera Levo un po' di compagnie C'era Nico che sta cazzando Gira, giiir Mamma Dio Ma voluto girarti Ma voluto girarti Mamma Dio Facca tica Roba Comunque ciao Michele Anzi, ti unirai Probabilmente Ti unirai al video Se vuoi Va benissimo Sto qua e Sto qua e Michele Ciao Tasi adesso Cazzo, cazzo Eccolo, eccolo Eccolo, eccolo Mamma Che Mamma Dio Gira Mamma Che bella Fisica Maledetto Isaac Newton Che ha inventato la gravità Che sia Maledetto Pianino 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 Gira Ok Vanno Te ne dà il centro Molto più facile A dirsi Che a farsi Eh, adesso come cazzo Gira Mi ha augurato Stia giocando col controller Sì, sì Controll Era veramente Complimenti Gira in qua Nolli 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 Porca puttina Che posto di merda Che sia Sì, esatto Devi forza farlo dal limite Altrimenti non funziona Madonna, no No Altrimenti Ok Un attimo Un secondo Allora Mamma Come l'ho salvata Devi semplicemente girare Oh, madonna Dio Cristo Mi sono cagato in dos Bana troia Un altro del genere Oh Dai, dai La dico La taglio Punto Cazzo No Sta a sinistra Occhio Occhio Alla Il tubo di metallo Bravissimo Literalmente Cazzo No Stupido Stupido Vabbè Sei un cretino Proprio Lo sai che se tu vai nell'angolo Gira dal lato opposto Pallone Eh, ok No, si solleva Anca Eh, andare dritto Cazzo Cazzo Stupido No, ma si matti No No Lì devi andare Ok Checkpoint E' soccasco lì Ma no Ti immagini Gira Gira E' il jarate Lasciato lì A Diciamo A coltivare Ed è venuto fuori il pesce Sì, esatto Hai fatto un ecosistema No, gira Gira Va a destra Mamma Che c***o Gira, gira, gira Gira No, il tubo Non ci voglio credere Il tubo Non è fisico Scusa Ma il tubo Non è fisico Ma il tubo Non è fisico Ma che c***o Ma non è fisico Guarda Guarda Guarda, ci immatti Ma che da fare Tutta quella roba La Guarda, adesso casco Vedete che c***o De roba Che da fare Perché ci vede Mamma Guarda 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 Spero Spero Che non sia Tutta C***o 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 Di spin Fatto Adesso sta andando Leggermente Anche verso sinistra Aspetta Giralo Ok, vai vai Anche correndo Però adesso frena Un attimo Da il noob Che in che so Ascetto cosa Senza aiuti È più facile Ma veramente C***o c'è da andare Sinistra o destra? Destra in teoria C***o C***o Mi sa che quelli Sono fisici Almeno C***o 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 Mi sa che è più difficile Ma salti La Mamma Mamma Voglio T'andar Drift Sto Morendo Stai volendo Il colere Giocare Sta roba Dai Mamma Dio No Veramente Sudiriamo La blasfemia No C'è il Tufo Che blocca Eh Dio Tu E Dio Girati No Destra No Così No Un Broppo Di Gira No Mi Bastiamo Veramente Di drift Con quel barattolo De Giarate C***o c***o Che gira Gira Aspetta Aspetta C***o 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 Eh Il tubo E c'è il gira Mia D... Dio Tana È più bello Studiar Algebra No Io devo ancora Capire La sua alimentazione È formata Da Acqua E Virtual Sì! Ma tu! Ma che cazzo è? Ma? No! Dovevi andare a sinistra! No! No! Ce la fai! Ce la fai! Ah! Dovevi andare a sinistra! Ottimo! Che cazzo è spena succede? Cioè non è morto cascando da un ponte va a capire! È di gomma! Beh! Ah! Devo avere le visioni per il pane alle ruine le prendo! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! No! Ma se... Verrà pescato sicuro! Che cazzo è successo? Bella! Che cazzo di acqua! Che cazzo! Ah! Ma che adesso abbiamo gli altri! Aspetta! Allora proviamo chi vi ispira! Pesce palla! Pesce palla ovviamente! Sei un fler! Che cazzo di acqua! Ah! Ti gu... Ti puoi gonfiare! Ti puoi gonfiare! Ti giugio... Ti giugio... Ti gioco da fare tutto il giro ovviamente! No! E dove va? Oddio! Vabbè! Perché c'è il tappetino eh! C'è il tappetino! Dai! Eh! Dai! Niko! Ma vai! In là! Scusa! Lo sai bene anche te che se tipo... Cadi da 50 metri di altezza! Ma c'è il tappetino sotto! Non ti fai niente! Il tappetino! Cazzo! Io vedo che c'è un gatto! Mi mangia! Mi gonfia! Se scoppia il gatto! Sarebbe hilarante la scena lì! Vabbè se ci fosse! Ok adesso ruggiamo solo dalla collina! Vai! Oddio! Sì! Vai! Mi divino integro contro la prima roccia! No! Devo fare anche un... No! Sì! Vai! Mi incassavo se il pesce palla moriva! Volevo vedere il suo personaggio sviluppare! Sì! C'è... C'è una stor... Ma che lì è manco Red Dead! Che ogni personaggio ha un'abilità diversa! Tu hai detto no! Che ogni personaggio ha un'abilità diversa! Ha un'abilità speciale diversa! Possiamo dire allora che GTA V ha preso spunto dai! Amphish! Vabbè! È ovvio! Cioè nel senso... Mandatevi una mail a quelli della Rockstar! Dici avete preso spunto dai! Amphish! Vedai che ti dicono di sì! Il suono! 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 Il suono!